Il pomeriggio del 18 dicembre la scuola secondaria di primo grado di Silvi con l'open day ha aperto le proprie porte all'utenza esterna dando la possibilità di avvicinarsi al magico mondo della musica Il pomeriggio del 18 dicembre la scuola secondaria Dirigente Monacelli oggi un pomeriggio importante perché si apre un nuovo percorso Abbiamo quattro professionisti che preparano i nostri ragazzi della scuola secondaria di primo grado quest'anno abbiamo iniziato da ragazzi di prima a prepararsi proprio con quattro strumenti violino, violoncello, chitarra e arpa Oggi l'open day I ragazzi assieme ai professori presentano i percorsi indirizzo musicale a tutta la comunità scolastica di Silvi non solo l'utenza di Silvi ma anche gli altri studenti delle scuole viciniori Abbiamo un'offerta formativa molto variegata che va dalla senza zaino al tempo prolungato allo studio delle lingue, del tedesco, dell'inglese, dello spagnolo e ad altre attività che ampliano e fortificano la nostra offerta formativa i percorsi indirizzo musicale sono un fiorell'occhiello di cui noi siamo molto fieri, siamo molto contenti perché promuovono la cultura e promuovono la nostra scuola Vado avanti ancora un po', ma ritorno sempre al don Vado avanti ancora un po'